Va in porto finalmente una battaglia storica della FLC-CGL a favore dell'inclusione di tutte le figure lavorative nella comunità educante e quanto dichiara il segretario regionale della FLC-CGL Sicilia Adriano Rizza commentando la pubblicazione del bando sulla procedura selettiva riservata ai lavoratori ex LSU e appalti storici impegnati da almeno dieci anni presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari I posti disponibili in Sicilia sono 952 su un totale di 11.263 a livello nazionale Tra l'altro, aggiunge Rizza, il decreto prevede qualora dovessero rimanere dai posti liberi all'interno di quelli accantonati l'internazionalizzazione anche a chi ha maturato 5 anni di anzianità di servizio La nostra organizzazione, conclude Rizza, è impegnata a tutti i livelli per ottenere un tavolo di confronto con il governo per garantire a tutti i lavoratori coinvolti continuità di reddito e occupazionale Continua la nostra battaglia per ottenere la stabilità di tutte le figure ATA La stabilità è il primo elemento, ha detto Rizza, su cui si basa la qualità del servizio scolastico